Siamo qui con Marisa Sinigaglia, Presidente del Consiglio Comunale di Rò. Ci dica, da dove è partita l'idea di fare questa commemorazione oggi in onore di Blessing? Ma l'idea è stata quella di comunque ricordare e far ricordare ai cittadini di Rò che queste ragazze poi trovano la morte anche per mano di persone assolutamente assurde. Queste ragazze non hanno scelto, io parlo a plurale perché sicuramente ce ne sono molte come diceva il signore della Lule, queste ragazze non hanno scelto di venire a fare questo lavoro. Purtroppo si vedono costrette a farle, purtroppo finiscono così. Noi non vogliamo che questa cosa passi nell'oblio, bisogna lavorare perché questo non accada più, assolutamente più. Favete partire qualche corso per sensibilizzare a livello comunale? Noi stiamo lavorando, lavoravamo con la Lule, adesso vedremo di fare ancora qualcosa con loro. Al momento io non ho altre informazioni, bisognerebbe chiedere meglio agli assessori. Però il fatto che loro siano qui vuol dire che hanno apprezzato anche il nostro momento di ricordo perché non deve assolutamente passare nell'oblio questa cosa. Grazie mille. Grazie mille.